dopo vent'anni riapriamo la biblioteca sciascia la biblioteca dei beni culturali a palermo è un segnale importante perché ogni luogo che riapre alla cultura ogni luogo che riapre alla pubblica fruizione è una vittoria della nostra comunità ed è anche un segnale per la nostra città per palermo che ha bisogno davvero di spazi per la cultura il martedì il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13 si potrà venire qui a consultare i libri a studiare a trascorrere del tempo in un luogo restituito a tutti